Eccoci, buonasera. Il telegiornale parte ancora dai numeri, perché oggi si aspettava quello che ieri era stato un po' evocato e un po' sperato, cioè un raffreddamento nella crescita dei nuovi contagi, delle ospedalizzazioni, delle terapie intensive, dei decessi, per poter decidere magari di non attuare misure ancora più drastiche per evitare un'ulteriore circolazione del virus. Purtroppo però i dati non sono stati quelli sperati, la frenata non c'è stata, anzi, 38.000 nuovi casi in un giorno, 636 nuovi decessi in un giorno, tanti, tanti come purtroppo nei giorni più cupi della prima ondata. È evidente che il contagio morde ancora in termini davvero preoccupanti, per questo nelle prossime ore, nelle prossime 24 ore al più tardi, è probabile che vengano dispiegate nuove misure. Alcuni le hanno già attuate da soli, i governatori in coordinamento, lo dicevamo già ieri tra di loro, dell'Emilia Romagna, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, con ordinanze appunto parallele, che hanno portato a una serie di limitazioni, soprattutto nei centri cittadini. Ma ci si chiede se ciò può bastare e se lo chiede poco fa lo stesso Conte, un interrogativo retorico di fronte ai nuovi casi. E poi c'è la questione Napoli, che già, ne parliamo da almeno 48 ore, è sotto gli occhi di tutti, contemporaneamente zona gialla e quindi di minor rischio, ma anche zona di immagini e situazioni raccontate che sono tutt'altro che ordinarie e tranquillizzanti. Fino a ieri sera, alla circolazione di quel video terribile dell'ospedale Cardarelli, con una persona che era deceduta dentro lo stesso ospedale di Covid e lasciata lì. E ovviamente lo shock di quella immagine, la polemica per quella immagine, la polemica in tutti i sensi, anche per il fatto che qualcuno era andato a fare quella ripresa all'interno dell'ospedale. Tutto questo ha portato a una spinta forte nella politica, anche perché ci sia comunque un intervento dello Stato, nella sensazione che è molto più che una sensazione che in realtà tutto si sia bloccato e avvitato attorno allo scontro personale e personalistico tra il governatore De Luca e il sindaco di Napoli e De Magistris. Ma il governo dovrà prendere ovviamente anche altre decisioni. Da un lato c'è la necessità, la prima, la più importante, vitale, il caso di Dio, di salvaguardare la salute dei cittadini. Dall'altro bisogna evitare di azzoppare ulteriormente l'economia. E il dato, tra l'altro europeo, che viene evidenziato in questi giorni tra Banca Centrale Europea e Commissione, è quello di una ripresa che è stata stroncata, azzoppata proprio sul nascere. E ora la situazione è molto più problematica da ogni punto di vista. E l'Italia, tra tutti i paesi, è quello che ne può soffrire di più dal punto di vista sociale, per come ne sono state colpite direttamente e indirettamente le famiglie. Ma ci sono altri fatti di cui parlare, quel naufragio ancora una volta di migranti nel sud del Mediterraneo, quella piccolissima vittima. Ma anche quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Trump non cede, anzi continua a rilanciare l'attacco sull'illegalità, sui brogli nello spoglio elettorale. E però Biden ha un'altra carta in più. Perché tra le telefonate di congratulazione da tutto il mondo, oggi gli è arrivata anche quella del Papa. Tra l'altro Biden è cattolico. Questo è altro. 30 secondi, i titoli. 636 vittime oggi. Negli ultimi 30 giorni oltre 7.000 persone sono morte a causa del Covid. Nessuno ha numeri così alti in Europa in questa seconda ondata in cui risalgono i contagi. 38.000 con il numero più alto di sempre di tamponi. Il governo punta a alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere con i Covid hotel per i malati più lievi. Il commissario Arcuri annuncia che le prime dosi di vaccino arriveranno a gennaio. Sarà somministrato prima a operatori sanitari e anziani. I dati dei giorni scorsi avevano fatto sperare in una frenata dell'epidemia che invece a ogni evidenza non c'è stata. O almeno non ancora. Il governo vorrebbe evitare le misure più drastiche come quelle del marzo scorso con lockdown totale in tutto il paese. Ma in alcune regioni la curva continua a alzarsi e sarà inevitabile arrivare a una stretta. Il caso più controverso ormai da giorni è quello della campagna. Lo shock provocato dal caso dell'anziano trovato morto nel bagno dell'ospedale Cardarelli di Napoli è l'ultima testimonianza di un sistema sanitario che appare vicino al collasso. Di Maio sollecita il governo c'è un'emergenza nell'emergenza bisogna intervenire con esercito e protezione civile per aiutare medici e infermieri. Non è una gara a chi è più sceriffo in riferimento ovviamente a De Luca e anche a De Magistris. In tutto questo c'è anche un'altra brusca frenata quella della produzione industriale nell'Eurozona a settembre con la recrudescenza della pandemia il calo su base anno è stato del 6-8%. Per l'Italia il calo più vistoso e questo è ciò che ci preoccupa dall'Ox è un altro dato negativo per il nostro paese. Nel secondo trimestre dell'anno è crollato il reddito delle famiglie meno 7,2%. Negli Stati Uniti è sempre più in salita il passaggio di consegna alla Casa Bianca. Donald Trump ha preannunciato rivelazioni delle frodi nel voto e al suo staff ha imposto il divieto di avere contatti con quello del presidente eletto Joe Biden che ha ricevuto proprio oggi anche le congratulazioni da Papa Francesco. Giorgia attesa per i ballottaggi di due seggi al Senato che potrebbero decidere sulla maggioranza tra repubblicani e democratici. Buonasera. Si sperava nella frenata della crescita dei contagi giornalieri e delle vittime non c'è stata. È evidente. La politica in qualche modo il governo e le regioni si erano predisposti a attendere di mettere in atto misure più stringenti sperando che non se ne ravvisasse il bisogno con un alleviamento magari dei numeri, dei bollettini nazionali e regionali. Invece non è stato così. Vediamone subito i numeri. In Emilia Romagna il più giovane era un uomo di 43 anni e abitava a Modena. Il più anziano ne aveva 101 ed era di Bologna. Nel Lazio molti avevano 50-60 anni fino a 94 anni. Ma non sono molte le regioni che forniscono i dati sulle vittime del Covid. Della Toscana, ad esempio, sappiamo che dei suoi 37 morti, 18 erano uomini, 19 donne. Solo frammenti di un dramma che oggi segna in tutto il paese 636 decessi ancora in aumento rispetto a ieri. Solo in Lombardia sono morte 187 persone. Nell'ultimo mese in tutto il paese circa 7.300. Negli ultimi due giorni più di 1.200. Il nuovo record di tamponi, più di 230.000, ha portato la curva dei nuovi positivi nuovamente verso l'alto, con quasi 38.000 casi. Considerevole l'aumento in Piemonte che ha raggiunto i 4.700 casi e in Campania nuovamente sopra i 4.000. Resta però la Lombardia, la regione più colpita, con più di 9.200 casi. Ma c'è un altro numero da segnare. Dall'inizio della pandemia fino ad oggi sono guariti 387.000 pazienti. Il numero degli attualmente positivi è quasi il doppio. Oltre quella soglia dell'1% della popolazione raggiunta già ieri è che ha segnato il primo gravissimo campanello d'allarme. L'altro allarme si vive ormai quotidianamente nelle corsie degli ospedali di tutta Italia. I reparti Covid oggi sfiorano i 30.000 pazienti, più del 10% sono in terapia intensiva, a 3.170. In 13 regioni i ricoveri ordinari hanno superato la soglia critica del 40% di occupazione. Ormai la media nazionale è al 53%. La provincia autonoma di Bolzano è addirittura al 99%. Il Piemonte al 92%, la Lombardia al 75%. Non va meglio per le terapie intensive. La soglia è fissata al 30%, la media al 34%. Dieci regioni sono oltre. La Lombardia al 50%, l'Umbria al 54%, la Valle d'Aosta al 57%. Il governo ora punta ad alleggerire le strutture ospedaliere con i Covid hotel dove ospitare i pazienti meno gravi. In questo momento in Italia ci sono 15.000 posti disponibili. Nel corso della videoconferenza con gli enti locali il ministro Francesco Boccia ha chiesto che ce ne sia almeno uno per ogni provincia fino ad arrivare a 20.000 posti in più. Ad occuparsene sarà anche in questo caso il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, responsabile anche per i vaccini. Stasera ha detto arriveranno a gennaio e il ministero sta lavorando al piano per la somministrazione. I primi ad averlo saranno medici e anziani. Infermieri e personale sanitario, ovviamente, ma questa è una partita che si giocherà quando ci saranno tutte le certezze riguardo a tempi e modi e anche a quale vaccino arriverà per primo. Quello che è certo è che l'emergenza di oggi è un'altra. Cercare di capire come arginare, tenere sotto controllo la crescita dell'epidemia in questa seconda ondata. E come dicevo, se già il governo stava osservando le situazioni da vicino per capire se nel fine settimana ci sarà la necessità di intervenire già da domani, c'è una situazione che sembra ogni giorno fuori controllo con le caratteristiche di una condizione in cui comunque elementi parziali, vicende particolari, ma anche veri e propri episodi scandalosi possono modificare tutto. Stiamo parlando di Napoli e della Campania. Il video shock dell'anziano trovato a terra morto di Covid nel bagno nell'ospedale Cardarelli a Napoli è l'ultima testimonianza drammatica. Racconta un sistema sanitario ormai in tilt di fronte alla pandemia. Da giorni i pronto soccorso di Napoli e della regione sono intassati per l'enorme flusso di sospetti Covid in attesa di risponso. L'uomo aveva 80 anni, non riusciva a respirare, racconta a Lanza il paziente trentenne che ha ripreso la scena agghiacciante. Era in stanza con me, aveva il Covid e gli ho buttato acqua in faccia e ho chiesto aiuto ma nessuno mi dava retta. Sono arrivati dopo mezz'ora ed era già morto e poi aggiunge ho girato quelle immagini perché volevo far vedere quello schifo. Sulla vicenda due inchieste parallele, quella della magistratura e quella dell'ospedale annunciata dal direttore generale Luongo che definisce deplorevole la diffusione del video sui social. Non abbandoniamo i nostri pazienti ha detto in questo caso si è allontanato autonomamente dalla zona di sospetti Covid ed è andato in bagno dove ha trovato la morte. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto. Possibile che nessuno dei sanitari si sia accorto delle condizioni critiche dell'anziano e poi del suo corpo a terra privo di vita in bagno per 30 lunghissimi minuti chiede l'autore del video malato di Covid. Ci trattano come appestati racconta ancora nella stessa giornata al Cardarelli nel pronto soccorso sono morte altre 4 persone situazione difficilissima anche negli altri ospedali al Cotugno continuano i soccorsi all'esterno con via vai di medici ed infermieri che effettuano le visite nelle auto in fila dei pazienti sospetti Covid che non possono essere accolti nel pronto soccorso saturi. Nell'ospedale di Giuliano un altro video sul web mostra pazienti in barella o intubati ancora vestiti e con le scarpe a Castellammare ci sono stati 4 pazienti morti in barella mentre erano in attesa di un postoletto il presidente della regione De Luca attacca il governo centrale che invia l'esercito per allestire ospedali da campo avevamo chiesto 1400 sanitari e ne sono arrivati solo 7 su questo punto sembra andargli dietro il sindaco dei Magissis serve sì un esercito ma di medici infermieri e operatori sanitari a caldo il ministro degli esteri Di Maio aveva detto qui lo Stato deve fare qualcosa di fronte a quelle immagini essendo egli stesso lo Stato nel governo oggi ha in qualche modo raddrizzato il tiro anche per suo impulso probabilmente il governo agirà nelle prossime ore su Napoli e sulla Campania zone gialle zone arancioni zone rosse io rispetto tutto e il ministro della salute ha tutta la mia fiducia nel lavoro che sta facendo col CTS ma attenzione se io vedo che ci sono file di 30 ore di ambulanze fuori ad un ospedale se ci sono morti in un pronto soccorso e vediamo scene come quelle di ieri e allora si devono dichiarare le zone rosse ora si devono dichiarare a livello regionale si devono dichiarare a livello provinciale decidiamo ma decidiamo parla della Campania emergenza nell'emergenza Luigi Di Maio ministro degli esteri con sensibilità locale anche per nascita nel video allarmato che posta su Facebook poco prima delle 18 ma il tono e l'appello da membro del governo come sottolinea prendono subito il sapore di un pressing sul capo del governo Giuseppe Conte che le decisioni almeno quelle di carattere nazionale è una stretta per tutti simile al lockdown già sperimentato a marzo e aprile le vuole rinviare il più possibile almeno alla fine della prossima settimana sussurravano da ieri nei palazzi sperando che i dati consentano di evitarle è questo il clima alla vigilia di un consiglio dei ministri teso di una nuova tornata di incontri con regioni e cabine di regia di un venerdì domani in cui alcune scelte saranno fatte ovviamente in senso restrittivo farò di tutto per evitare un lockdown aveva detto ieri Conte in un'intervista alla stampa confortato da numeri pesanti ma con una crescita rallentata e nuovamente preoccupato oggi dalla doccia fredda di una risalita e per di più da mille contestazioni e dibattiti sulla correttezza e completezza dei dati stessi servono decisioni difficili e sacrifici importanti corregge oggi Conte ma aggiunge contro il covid le soluzioni nazionali da sole non bastano il tentativo sarà quello di procedere per chiusure localizzate per zone rosse allargate o inserite nelle mappe delle regioni o per spostamenti delle regioni vedi la campania sulla quale si deciderà domani da gialle ad arancioni o rosse e intanto di spingere i governatori nella direzione già imboccata da quelli più dialoganti Stefano Bonaccini Emilia Luca Zai a Veneto Massimiliano Fedriga a Friuli che si sono accordati per ordinanze severe anti-assembramento vedi mini lockdown domenicali contro il cosiddetto struscio sono in seguito nel percorso disegnato fin qui dal premier lo scivolamento dell'Italia tutta in una specie di grande zona arancione anche per ridurre l'impatto economico talmente forte da complicare la scrittura stessa della legge di bilancio nell'incrocio con i decreti ristori arrivati a tre e poi riunificati scivolamento politicamente più sostenibile per Conte di una stretta generalizzata con responsabilità centrale e brusca sconfessione della promessa rinnovata anche per l'appunto ieri un lockdown avrebbe un costo alto sottolineano fonti parlamentari specie alla luce dei sondaggi settimanali che accreditano Giorgia Meloni di una popolarità superiore a quella di Conte quale che sia il valore vista l'assenza di appuntamenti elettorali a breve impossibile non valutare l'impatto psicologico osservano Conte a dispetto della lettura pessimista mista dei dati di Franceschini e Speranza proverà a prendere ancora un po' di tempo e magari il weekend come banco di prova delle nuove norme del comportamento dei cittadini sempre numeri permettendo Allora per parlarci la cosa a cui probabilmente si va è una serie di misure concertate nei centri cittadini facciamo l'esempio di Roma dove saranno chiuse le fermate principali della metropolitana le più centrali piazza di Spagna e dintorni e così probabilmente succederà in altre città dove non c'è già la zona rossa perché Milano e Torino non hanno più probabilmente in gran parte questo problema e la chiusura come già è stata annunciata dalle ordinanze nel Triveneto in Emilia la chiusura nel weekend dei centri commerciali questa probabilmente si attuerà anche in tutta una serie di altre regioni sicuramente anche il Lazio si cerca di disincentivare la possibilità di assembramenti ampi e di circolazione ampia e contemporanea di persone nei luoghi e deputati a ciò nei giorni del fine settimana questo per tentare di decongestionare la situazione anche perché il rischio ovviamente è anche un altro quello appunto che porterebbe un lockdown se la situazione dovesse farsi ancora più pesante perché i numeri dell'economia in Italia come nel resto d'Europa con questa seconda ondata si fanno davvero più precari la ripresa economica perde slancio più rapidamente delle attese dopo il forte benché parziale e disomogeneo recupero dell'attività economica nei mesi estivi le parole contenute nel bollettino economico della Banca Centrale Europea descrivono alla perfezione quanto la seconda ondata della pandemia in Europa stia già pregiudicando quella ripartenza che la tregua portata dalla bella stagione aveva fatto illudere potesse essere stabile e duratura e invece la recrudescenza dell'epidemia e le conseguenti nuove misure restrittive hanno portato a un peggioramento delle prospettive a breve termine ben visibile in realtà anche nei dati diffusi oggi da Eurostat relativi alla produzione industriale nel mese di settembre l'ultimo di un terzo trimestre comunque di ripresa ma la cui conclusione già ne faceva intravedere la fragilità nell'area euro infatti quell'indicatore ha subito una contrazione sia su base mensile meno 0,4% che su base anno a meno 6,8% e se andiamo ad osservare i numeri dei singoli paesi per quanto riguarda il confronto con il mese di agosto il calo più sensibile lo ha fatto registrare proprio l'Italia a meno 5,6% Italia fa analino di coda in questo caso tra i paesi del G7 anche per quanto riguarda il crollo del reddito delle famiglie meno 7,2% in un secondo trimestre ovviamente fortemente condizionato dal rigido lockdown conosciuto dal nostro paese a rilevarlo stavolta è l'Ocse che però fa anche notare come le misure di sostegno adottate dai singoli governi abbiano contribuito ad attutire la crisi dal momento che nella maggior parte dei paesi membri il reddito disponibile delle famiglie ha avuto performance migliori del PIL resta la realtà di una situazione emergenziale nella quale un importante e imprescindibile ruolo di sostegno continua ad essere giocato dalle banche centrali la BCS è detta pronta a ricalibrare i suoi strumenti l'ampliamento del programma di acquisto di titoli PIPP dovrebbe essere deciso a dicembre il tutto in attesa del vaccino l'annuncio di Pfizer e BioNTech hanno affermato sia la numero uno dell'Eurotower Lagarda che il presidente della Federal Reserve Powell in occasione del forum delle banche centrali è un fattore che rimuova incertezza dallo scenario macroeconomico e l'economia sarà anche un terreno di prova per il nuovo clima che si vorrebbe instaurare nella politica italiana quello che in qualche modo ha indicato a più riprese senza essere molto ascoltato fin qui il presidente Mattarella di un dialogo tra maggioranza e opposizione ieri lo ha lanciato più risolutamente dall'interno dell'arena politica Zingaretti dicendo che la manovra di fine novembre dovrà essere concertata tra governo e opposizione bisogna trovare un ambito ben preciso per farlo ma contemporaneamente la via della manovra e del lavoro parlamentare si intreccia con l'appuntamento congressuale perché quello è dei 5 Stelle si gioca su due tavoli il futuro del governo uno tutto interno alla maggioranza con i 5 Stelle che affrontano gli stati generali tra sabato e domenica l'altro forse mai davvero aperto con l'opposizione per la gestione condivisa in Parlamento dell'emergenza al tavolo dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha deciso di farsi vivo interverrà domenica segnale di attenzione non secondario Conte ha più volte detto che decisioni anche fondamentali compresa la discussione sul mess andavano prese dopo il congresso 5 Stelle dove non è certa la presenza di Beppe Grillo mentre è sicura l'assenza di Davide Casaleggio nella lista degli interventi rientrano la ministra Zollina gli ex ministri Toninelli Trenta e Giulia Grillo la vice presidente del senato Taverna i sottosegretari Buffagni e Di Stefano l'euro parlamentare Giarrusso rappresentanti di tutte quelle che un tempo avremmo definito correnti ma soprattutto ci saranno i tre big storici Luigi Di Maio Alessandro Di Battista e Roberto Fico rientrati anche loro nella lista dei 30 più votati dalla piattaforma Russo dove gli iscritti hanno indicato i loro portavoce Di Maio Di Battista e Fico di nuovo insieme questa volta davvero per decidere se rimanerci perché in ballo ci sono i due mandati il rapporto con la Casaleggio associati c'è la linea politica con il gruppo di Di Battista pronto a rilanciare la richiesta di andare da soli come alle origini una ricerca di identità che non può non attirare l'attenzione del capo del governo come quella degli alleati governo che cerca in questa fase una sponda allora sull'altro tavolo quello tutto da apparecchiare con l'opposizione per affrontare la fase critica dell'emergenza a cominciare dallo scrivere assieme la prossima legge di bilancio come ha proposto ieri Zingaretti pronti ma si deve giocare a carte scoperte il messaggio che arriva dal centrodestra significa fa sapere il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari che per avviare il dialogo la maggioranza dovrà accantonare la riforma dei decreti sicurezza targati Salvini che dovrebbero approdare il 23 a Montecitorio e la posizione fanno sapere fonti non solo della Lega e condivisa dagli alleati compresi centristi e Forza Italia compattezza che rende complicato il tentativo per il PD è troppo importante il taglio dei decreti Salvini il 25 però dovrebbe arrivare il voto anche sullo scostamento di bilancio e lì la maggioranza potrebbe avere bisogno di soccorso già i decreti Salvini la questione ricorderete sicuramente dei migranti dello stop ai migranti dei provvedimenti e dei processi che affronterà il leader ed ex leader della Lega ed ex ministro dell'interno ma delle vicende dei migranti del sud del Mediterraneo tocca tornare a parlare per ben altra vicenda L'organizzazione umanitaria Open Arms posta su Twitter il video dell'ultima strage del mare le urla lo strazio incontenibile della madre del piccolo Joseph il bambino di sei mesi che nel naufragio dell'altra notte non ce l'ha fatta a rimanere vivo madre e figlio venivano dalla Guinea un gommone stracarico partito dalla Libia che non ha retto il peso e si è afflosciato e affondato a largo del Mediterraneo a 31 miglia dalla costa di Sabrata 120 persone sono finite in acqua l'imbarcazione di Open Arms è intervenuta dopo essere stata avvisata nella mattinata di ieri da uno dei velivoli di Frontex giunti sul luogo i volontari si sono trovati di fronte a una tragedia in corso con le persone tra le onde senza salvagente abbiamo deciso di rendere pubblico quello che accade in quel tratto di mare perché i nostri occhi non siano i soli a vedere scrivono i volontari dell'ONG spagnola nel giro di poche ore Open Arms l'unica nave di una ONG attualmente attiva nel Mediterraneo centrale ha salvato più di 200 persone in tre operazioni diverse nella notte un altro soccorso un'imbarcazione con 64 migranti a bordo tutti salvi notizia di questi minuti diffusa da medici senza frontiere un altro naufragio oggi con 20 persone morte e di un'altra strage la terza da notizie all'OIM l'organizzazione per le migrazioni delle Nazioni Unite parla della morte di almeno 74 migranti oggi a largo di Qums in Libia l'imbarcazione trasportava oltre 120 persone tra cui donne e bambini 47 sopravvissuti sono stati portati a riva dalla guardia costiera libica si tratta afferma l'OIM dell'ultima di una serie di tragedie che hanno coinvolto almeno altri 8 naufragi nel Mediterraneo centrale dal 1 ottobre la Libia non è un porto sicuro per riportarci i migranti ribadisce l'agenzia dell'ONU e chiede alla comunità internazionale di agire con urgenza per interrompere tutto questo Allora in merito invece a quello che vi abbiamo raccontato diffusamente ieri la vicenda della nuova inchiesta che riguarda società autostrade l'arresto adesso è ai domiciliari di quello che è stato l'amministratore delegato di Aspi ovvero Castellucci il seguito è quello tutto politico o si chiude entro quest'anno o diversamente si deve procedere alla revoca si dice da più parti nel governo rispetto alla questione autostrade come si sa il passaggio sotto il controllo di cassa depositi e prestiti la cessione da parte di Atlantia le parole che vi ho detto sono quelle del vice ministro dei trasporti cancellieri e la stessa ministra De Micheli ha spiegato in senato che la trattativa si muove su prezzi e valori di mercato in termini di prospettiva e non incrocia altre decisioni che il governo dovrà prendere a breve vedremo questa vicenda e come si concluderà spostiamoci negli Stati Uniti perché Trump mostra con i suoi atteggiamenti con i suoi tweet soprattutto di non volere assolutamente cedere strada al suo avversario al presidente eletto Biden anzi chiede continua a chiedere di ricontare i voti in molti stati e concentra attualmente la sua attenzione sulla Georgia mentre Biden ha ricevuto una telefonata che è importante non soltanto per i valori cattolici in cui crede inamovibile nulla fa dubitare Donald Trump non i numeri non le notizie che arrivano dalle corti nelle quali i suoi legali vengono rimproverati dai giudici per vertenze definite frivole e prive di prove il presidente oggi twitta continuiamo a fare grandi progressi elenca nuove frodi che non si rivelano tali e promette risultati incredibili per la prossima settimana i leader del partito repubblicano non sono ancora pronti a fare pressione su di lui la base lo appoggia in più hanno bisogno di Trump perché in ballo c'è ancora la maggioranza in senato con due ballottaggi in Georgia vincendoli democratici potrebbe ragguantare la parità nella camera alta consegnando al presidente eletto un altro scenario politico ed istituzionale per governare Biden che deve fare i conti con l'ordine di Trump di bloccare la sua transizione guai a chi si azzarda a contattare il team del presidente eletto è costretto ad usare una certa creatività per procedere nella costruzione del proprio governo nella notte è arrivato l'annuncio della scelta del suo capo dello staff il secondo lavoro più importante della città di Conor Washington l'uomo con in mano l'agenda del presidente per Joe Biden sarà Ron Klein da sempre al suo fianco sia quando era senatore che vicepresidente una persona con un'esperienza sterminata di governo sia in campo economico con la sua partecipazione al piano di ripresa economica dopo la crisi dei mutui facili che nella sanità è stato capo della task force americana contro Ebola un modo chiaro per Biden di marcare la differenza con Trump tornando a prediligere persone con grande competenza e conoscenza della macchina politica americana e come ha spiegato lo stesso presidente eletto nel suo messaggio di presentazione con una grande capacità di lavorare con persone che provengono da qualsiasi schieramento dote che quanto pare sarà utile da subito visto che ad aiutare Biden nella transizione si sono messi a disposizione alcuni degli epurati di Donald Trump nei vari ministeri funzionari che hanno cominciato a collaborare con il gruppo del presidente eletto per fornire notizie di prima mano su quanto accade e sulle condizioni in cui versano il Pentagono la segreteria di Stato il ministero dei trasporti e quello dell'ambiente in una sorta di avvicendamento parallelo e virtuale l'esempio più concreto di questa situazione è proprio la segreteria di Stato che sotto Mike Pompeo sta trattenendo i messaggi e le telefonate che arrivano dai leader del mondo per Joe Biden l'ultimo a congratularsi con il presidente eletto è stato oggi Papa Francesco e così Joe Biden ha deciso attraverso i funzionari transfughi di costruire un piccolo ministero degli esteri parallelo con il quale è in contatto con i capi di Stato e di Governo di tutto il mondo Dopo di noi a otto e mezzo di Lili Gruber ospita Ranieri Guerra ma anche Michela Murgia e Alessandro Sallusti poi giovedì in Piazza Pulita Corrado Formiglia tra gli ospiti Andrea Crisanti Fabrizio Pregliasco Walter Ricciardi Gad Lerner Tito Boeri Giovanni Totti ci fermiamo e infine le borse vediamo insieme Milano ha chiuso in negativo ma troveremo il segno meno ovunque meno 0,84% con lo spread ormai che è basso sotto quota 120 a 118 in questo momento come dicevo Wall Street che a sua volta perde nel Dow Jones l'1,11% e col Nasdaq lo 0,54% euro-dollaro 1,18% è tutto Gruber Formigli ci vediamo domani sera buonasera